Si intitola Imparare a vivere la strada il libro che documenta le buone pratiche realizzate nel campo della mobilità sicura e sostenibile prodotto dall'ufficio scolastico regionale stampato in 3.000 copie con allegato un dvd contenente materiale didattico e filmati relativi alle iniziative intraprese dalle scuole coinvolte nel triennio 2010-2013. Evidentemente il percorso dalla prima stesura alla pubblicazione deve essere stato particolarmente lungo già che fra le prefazioni che comunque nessuno legge appare quella di Riccardo Riccardi assessore regionale alle infrastrutture nell'aggiunta Tondo e meno male che nel frattempo il codice della strada non ha subito modifiche rilevanti. Cattiverie giornalistiche a parte l'operazione è stata salutata positivamente dalle istituzioni oggi alla presentazione del volume istituzioni che ne hanno sottolineato la necessità e l'importanza non soltanto a livello cittadino e regionale. Secondo i comandanti della polizia locale il progetto potrebbe addirittura essere in qualche modo esportato nel resto del paese. Sergio Abate poi ha ribadito l'impegno del corpo per essere il più vicino possibile alle necessità dell'intera cittadinanza in modo da conoscerne le esigenze neanche per migliorare l'efficienza dello stesso servizio sulla base di tali considerazioni provengano esse anche dai più piccoli. Già che è l'opinione dell'assessore alla mobilità Elena Marchigiani usare la città secondo nuove regole è uno degli impegni dell'amministrazione comunale mentre Antonella Grimm assessora all'educazione ha espresso il proprio apprezzamento per la collaborazione instaurata con le scuole. Se poi in un futuro non così distante i ragazzi che dalle pagine risultano virtuosi non si trasformeranno in pedoni incuranti di regole fondamentali non attraversare col semaforo rosso tanto per dirne una tanto di guadagnato per tutti.